Però intanto abbiamo installato 50 giga in 15 minuti, e godi va! Ah, questo è il team of the week con Lewandowski, Foden Di Marco Dove stanno i brasiliani, ah oh? E che arte sono uscite, scusa Danilo, Renan Lodi Un giocatore gratis Oh, animazione nuova, oh! E' nuova l'animazione, regà Le Marforte è quello del Santos Oh, schippa, tanto ho tutti i bidoni Ma hanno baitato, porco Giuda Eeeh, scusami, ma... Quindi mo' ci stanno solo sti bidoni Ma leao è bait, regà, non è 99, porco sia Se lo evorvi lo porti a 99 E' 85, zio cane Io c'ho uno squadrone, regà Beccate che squadra che c'ho Ora si possono rinnovare con le monete blu Ma che cazzo dici? Finalmente, porco Dio, li hanno fatta Quindi se io vado su... Che ne so, vado su Batistuta Tar posto dosi man Dettagli giocatore Opzioni Rinnovo del contratto GP Alleluia Alleluia, zio cane Batigoi scenco Così si fa Ah, però, ma famosa in game, oh? Famosa in game con sta squadra che è fenomenale Voglio riprovare il gioco Che non gioco da una vita Per conto io sto in divisione 9, ragazzi Io divisione 5 sto bestemmiando Ma qui ti tocca try hard Andiamo qua No, ma che è sta visuale? Ma sto giocando contro una persona o no? Ma è un bot Boom E il capitano Sì, ma io non voglio giocare tutta la partita contro il bot, regà Non bot tipo da divisione 6 No, ragazzi Non posso giocare Ma se posso giocare Posso giocare con 3 persone? In Unlimited Ah, ok Allora muo vado a fa' Ma il capitano direi botte, oh Ehm Come se esce? Allora Quindi devo fare partita PvP Unlimited Entra Almeno una vittoria in 3 partite Ma questo è PvP qui, gioco online Oh, ma che palle Ma pure qua solo Itas È vero che Messi avevo dirtato l'ultima volta e c'ha 100 di tiro Porco Dio davanti alla porta sbagliava Mamma mia invece il capitano non sbaglia mai Non sbaglia mai il capitano Ma regà, graficamente porco Dio pare mobile game, dai Come se faceva a far tutto da sola a GPU Porco Dio ragazzi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ragazzi Come se fanno i contrasti, regà Eh, come sta con quell'altro tasto Eh, con quadrato, non col cerchio Porco Dio, dai Io ho rotto una gamba Io ho rotto Ah, ma Jude Insegnabile Madonna il capitano ragazzi D'esterno destro Ma è fortissimo Ammazza che schifo Madonna, ma Battistuto è spiritato A me più che altro è sto gioco, come dirta Che non può fare manco una skilletta Porco Dio Cioè sono tutte strane le skill Chefchenko Ti amo che faccio vedere la skill sui football Eccola Oppela là L'unica skill che si può fare nel gioco Tipo Ammazza che palla che gli ha dato No ragazzi Messi bullizzato da bastoni Porco Dio Anfischia Ma ci sta, eh D'altronde Rifletta di Cristiano Ronaldo Un bel gol al 49esimo Con tre minuti di recupero Dai Tre tiri Tre go Vabbè E niente Non si può segnare però Oddio Regà Sto per Per chiuderlo E disinstallarlo Porco Dio Tentato omicidio sul capitano Quello No vado sempre peggio Ammazza Che schifo Sta punizione Ma in girano Il problema è che Non se possono dribbla I giocatori Porco Dio Su sto cazzo De gioco Ho dei legno Zio cane Bello Vati 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 E' il capitano Non è vero È Shefsenko Codo Molto bene Mamma mia Che intervento Che ho fatto Mamma cazzione Ragazzi Mamma cazzoncina Ragazzi Ah Quitato Ma che connessione Debole Gli ho dato il cazzo Gli ho dato E godiamo Signori E godiamo Che fai Non la provi In altra Provi in altra Sfida 2 E te la fai Per te è peggio Che una partita Porco Dio qua League of Legends Zio cane Bravo Oko Rio Niente Drobbai 104 Core troppo Partita già Mi piace C'è una dedicata La verità Dai provano tutti A tiragiro Subito La meccanica Buggata Zio cane Niente Messi è pazzo Che culo La Messi Vola Messi Vola Messi Non si può Superare un giocatore Su sto gioco Tipo Bravo Ber liscio Questo Modo super E come Bravo portiere Mamma mia che liscio Mamma che liscio Il difensore È liscio totale Mamma mia Abbati stuta Mamma mia Abbati E' elegante E' elegante Ok stiti Come hai fatto A prendere la beta Chiusa Come hai fatto a prendere la beta chiusa Cevchenko Gran rigore di Sheva Devi usare solo gli analogici per skillare e basta Ma non fanno skill C'è proprio solo movimento quindi Lionel Messi È orari troppo umani Vanno allungati piano piano brother Piano piano allunghiamo E tornerò al regime di streaming normale Tanto che sono tornato in stream Che mi svegliai 8 di mattina Non si sa come faccio a stare in stream oggi Te lo dico Comunque questo è un gran goal comunque Comunque questo è un gran goal ragazzi Meglio per te Zala Salute ne ha beneficio No ma durerà poco Cioè durerà sta settimana Che ci saranno stream un po' più deboli La prossima settimana Invece se ritorna Fida da regime ordinario Con le stream un po' più lunghe Ma comunque è caruccio Dai non è brutto Non è brutto il gioco Dai per su Cioè non è bello Non è brutto È così Per il meme raga Per il meme